ciao a tutti bentornati sull'antimetà siamo i Lorenz e oggi abbiamo il mazzo fallout di Dogmeat Scrappy Survivors e niente direi di partire con l'unboxing partiamo se riesco ad aprirlo direi di lasciare un like per supportare il canale iscrivetevi se non siete iscritti per non perdervi i nuovi video in descrizione c'è il gruppo telegram e tutto indicazioni anche sul fantasy store che supporta il canale costantemente e vi invitiamo anche a passare sul loro sito e a usare il codice ANT5 per supportarci qua finalmente siamo col secondo mazzo a tema Dogmeat mazzo Naya qui vediamo il solito contenuto classico dei mazzi commander con il mazzo i token token vari qui c'era dentro la busta ma è staccata subito qui tutti i segnalini di ogni tipo qui il segnapunti che verrà brutalmente vandalizzato il segnapunti è abbastanza scarso che non ci piace partiamo subito con la busta collector booster sample pack falla vedere bene ok partiamo vediamo il tocco magico di che roba e se sbusta una super carta ma vedremo vedremo attenzione kellogg dungeon's mind costa 3 di cui nero rosso 3 2 attacco improvviso rapidità quando attacca crea un tesoro significa 5 tesori prende il controllo di una creatura a bersaglio fino a che controlli kellogg attiva solo come stregoneria insomma carino e una terra terra la terra di amonket tappata full art tappland full art con ciclo foresta e pianura bella bella terra foil full art sono sempre comode per i nostri mazzi allora togliamo l'incarto scarso col plastichino junk token spazzatura settlement cantaterra aggiungi un'altra mana aggiungi un'altra mana aggiuntiva aggiungi un'altra mana di qualsiasi colore quindi ti filtra filtra tutto food radiation ma sono radiazioni copy scoiattolo un po' scoiattolo radioattivo scoiattolo un po' radioattivo la guida prende il counter prende i controlli soldato umano tesori scoiattolo ok andiamo a togliere subito l'incarto così si vede meglio allora un attimo rileggiamo il comandante che vediamo cosa faceva dog meat ever loyal sempre fedele costa 3 di cui i 3 colori del mazzo costa 3 poi nel campo di battaglia massina 5 carte poi fai tornare un aura o equipaggiamento dal cimitero in mano unico volta una creatura dei controlli che ha incantato e equipaggiato attacca crea un junk token un junk token ok va bene abbiamo un vice comandante che è Preston Garvey Minuteman costa 5 4-4 inizio della common del tuo turno crea un green aura enchantment che praticamente è quello che abbiamo visto prima quello che incanta le terre e le permette di filtrare e di dare il male nei vari colori ogni qualvolta Preston attacca stappa ogni permanente incantato e controlli beh ok sono entrambi molto forti forse preferisco di un po' di più Preston perchè sono ma perchè dai è sempre così no è strano questo qui dovrebbe essere giro vabbè si sono sbagliati ne ho messo 3 in modo sbagliato va bene ok allora partiamo con le altre 98 carte consort handy helper costa 3 2-3 i comandanti che controlli hanno ward 2 tappa aggiungi due bianchi spegni questa mana solo per lanciare aure equipaggiamenti magie ok tappa attacca 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 high le persone precedwee costano 2 press большissime true accettate che attacca in chi summit 2x il numero di permanenti non terra che controlli pre-war formal wear costa 3 artefatto di equipaggiamento quando entra nel campo di battaglia fa tornare una creatura con mana a 3 o inferiore dal tuo cimitero sul campo di battaglia e attaccagli pre-war formal wear equipaggiata prende più 2 più 2 e abbi cautela equipaggiata poi vault 101 birthday party costa 4 step 1 crea un soldato 1 1 token e un food token step 2 e step 3 puoi far tornare un aero equipaggiamento dal tuo cimitero sul campo di battaglia no, dalla mano puoi mettere dalla mano o dal cimitero sul campo di battaglia ok, dalla tua mano o dal cimitero sul campo di battaglia se hai un equipaggiamento lo attacchi direttamente ok vai passando il suo costo di equipaggiare ok duchess, wayward, travel and keep costa 4, 4-3 hunters for hire ogni qualvolta una creatura che controlla infinitamente un giocatore metti un quest counter su edessa tap 1 rimuovi un quest counter da un permanente dei controlli e crea un junk token ok grim reaper sprint costa 5 incantesimo aura miriade no morbido morbido questa magia costa 3 in meno per essere castata se una creatura è morta in questo turno ok, mi encanta la creatura quando entra nella battaglia stappa ogni creatura dei controlli quindi se la tua main phase puoi fare una disegnare combat ah ok mica male mi encanta la creatura di più di rapidità mica male eh no junk jet bella costa 2 ti fatti equipaggiamento quando entra nella battaglia crea un junk token tappa 3 sacrifica un altro artefatto raddoppia la forza della creatura equipaggiata fino a fine di turno anche questa non è male eh no per niente Megatons fate costa 6 stregoneria scegli uno disarmo distruggi un artefatto bersaglio crea 4 tesori token o detonare Megatons fate infilia 8 danni a ogni creatura ogni giocatore prende 4 se ne inni radiazione ok radiazioni ricordiamo che è l'inizio del tuo preconbat main phase se hai un rad counter mille altrettante carte per ogni carta non terra millata in questo modo, perdi una vita e un rat counter bello, te li togli i rat counter comunque, man mano che si usurano se si sfruttano diciamo, ti fanno danno e poi vanno via, volt 21 house gambit costa 2, step 1 e 2 scarto una carta, poi pesco una carta allo step 3, rivela fino a 5 carte non terra dalla tua mano per ognuna di esse per ogni carta che ha lo stesso valore di mana, delle altre se riveli 2 a costo 2 e 2 a costo 3 funziona 2 volte quindi crei 4 tesori veronica, dissident scribe costa 3, tra 3 minacciare quando attacca puoi scartare una carta se lo fai pesca una carta ogni volta scarti una o più carte non terra per la prima volta in ogni turno crea un junk token ok animal friend costa 2 incantesimo aura incanta creatura la creatura incantata ah, ogni volta questa creatura attacca crea un scoriattolo 1 1 verde token metti un sinop1 più 1 su quello scoriattolo per ogni aura equipaggiamento attaccato a questa creatura diverso dall'animal friend si, diverso dall'animal friend ok, va bene diventa uno token scoriattoli abbastanza cattivi strong back costa 3 incantesimo aura incanta creatura le magie le abilità di equipaggiare che attivi su che bersaggiano una creatura incantata costano 3 in meno per essere attivate aura, spelly o cast o anche le aura che lanci dalla mano per incantare questa creatura costano 3 in meno la creatura incanta prende più 2 più 2 per ogni aura equipaggiamento attaccato ok, quindi devi potenziare a bomba quella creatura potenzia a bomba si almost perfect costa 6 incantesimo aura incanta creatura la creatura incantata ha forza di costruzione base 9-10 e ha indistruttibile e questo non è per niente male è no armory paladin costa 3 creatura un cavaliero umano tra 3 travolgere ogni volta lanci un aura in equipaggiamento esili la prima carta del tuo grimorio puoi giocare quella carta in questo turno giocare quella carta fino alla fine del tuo prossimo turno ok, fino alla fine del tuo prossimo turno kate cage brawler costa un verde un rosso 1-1 fino a che il tuo turno kate è indistruttibile unica volta lei attacca tu e il giocatore in difesa pescate entrambi una carta poi scartate una carta metti due segni più uno più uno su kate se hai scartato carta col valore più alto tra le due ok o più alto pari merito cioè sei scartate entrambi a 4 o meno kate mi sembra di fallout 4 lei kass hand of vengeance costa 4 4-3 cautela unica volta kass un'altra criatura che controlli muore se era incantata equipaggiata fa tornare un qualsiasi numero di aura che erano attaccate ad essa dal cimitero sul campo di battaglia attaccate ad una criatura bersaglio poi attacca un qualsiasi numero di equipaggiamenti che erano attaccati a lei ad un'altra criatura ok a quella criatura a quella criatura inventory management costa un bianco e un rosso istantaneo speed second quindi cos'è battibaleno che non si può rispondere ad istantanei per ogni aura equipaggiamento e controlli puoi attaccare puoi attaccarli a una criatura dei controlli ok quindi puoi attaccare tutto a una criatura e basta ok moira brown guide author costa 3 2-3 quando entra in campo di battaglia crea un equipaggiamento in colore che si chiama westland survival guide quindi la guida della zona che abbiamo visto prima con equipaggiatura prende più 1-1 per ogni quest counter tra i permanenti controlli e equipaggiare a 1 ogni volta attacchi mette un segno quest su una permanente non terra i controlli ok ci sta ci sta 3 dog galaxy news dj 3 dog costa 3 1-5 unico volta attacchi puoi pagare 2 addizionali 2 incolori e sacrifica un'aura attaccata ai 3 dog quando sacrifica un'aura in questo modo per ogni altra creatura attaccata ai controlli crea un token che è una copia di quell'aura attaccata quella creatura normale ok normale mister gusti costa 2 1-1 unico volta lancia una magia un equipaggiamento mette un segno 1-1-1 sul mister gusti quando muore crea x junk token dove x è il numero di 1-1-1 su di esso ok pibboy 3000 costa 1 unico volta la creatura equipaggiata attacca scegli uno sort inventory pesca una carta poi scarta una carta pick and perk metti un signo più uno su questa creatura jack map stappa fino a due tarra e bersaglio e occupa già la 2 ok poi abbiamo junk town tappa aggiungi in colore oppure tappa 5 di più un rosso e tappa sacrifica junk town crea 3 junk token ok poi abbiamo una filtro ok mental of the ansiest costa 5 incantesimo aura incanta creatura controlli quando entra in campo di battaglia fa tornare questo numero di aura o equipaggiamenti di bersaglio che possono essere incantati alla creatura possono essere attaccati alla creatura dal tuo cimitero sul campo di battaglia attaccati alla creatura incantata il giocatore incantata prende più o più uno però ogni aura equipaggiamento attaccati ad esso va bene poi abbiamo pursteel paladin costa 2 2-2 ogni qual volta un equipaggiamento entra in campo di battaglia sotto controllo poi pesca una carta poi a metalcraft gli equipaggiamenti dei controlli hanno equipaggiare a 0 fino a che controlli 3 o più artefatti va bene single combat costa 5 stevineria ogni giocatore scegli una creatura o un premio di controllo poi sacrifica il resto gli giocatori non possono lanciare magie creature o plans walker fino alla fine del nostro prossimo turno ok atto blasfemo quindi a costo 9 costa 1 in meno ogni creatura scopo di battaglia fa 3dc danno tutte le creature caos warp costa 3 scegli il proprietario di una permanente bersaglio lo rimescono nel suo grimorio poi arrivi alla prima carta del suo grimorio se è un permanente la mette in campo intervento eroico costa 2 istantaneo i permanenti controlli dipendono in team lock indistruttivi fino a fine turno buono buono base risk collar costa 1 equipaggiamento equipaggiata atto qualità legame vitale bello equipaggiare a 2 blotforged battle x costa 1 equipaggia equipaggiata per neppi 0 ogni volta equipaggiata infilando il combattimento a un giocatore crea un token che è una copia della blotforged battle x e da equipaggiare a 2 questa si fa continuamente copie champions helm costa 3 artefatto equipaggiamento equipaggiata per neppi 2 più 2 fino a che da equipaggiata e leggendaria a antimalocchio e da equipaggiare a 1 ok masterwork ingenuity quello che hai trovato si quello che hai trovato nell'altro mazzo poi puoi entrare nel campo di battaglia come copia di una qualsiasi equipaggiamento sul campo di battaglia bello poi abbiamo canopy vista terra tappata meno controlli 2 più terre base stessa cosa si checkland frutteto esotico altra filtro altra checkland la carta di terra deserto tappo in giro in colore per il tappo 2 tappo significa il deserto resiglia tutti i cimiteri ci sta scelta rettiva sempre di amunket si un'altra filtro altra checkland tempio tempio 1 in inglese sapete che è quanto discutibile se poi hai canato metà dei nomi che c'erano comunque fa lo stesso costa 3 1 2 doppio attacco travolgere quando infilizzando combattimento un giocatore crea un jung token va bene perfetto jan de rickles costa 2 2 1 quando attacca se è modificato puoi fare infilizzare danno pagare la sua forza con qualsiasi bersaglio però eh sì a te e a un qualsiasi bersaglio a te ci fa danno a noi e a un altro bersaglio è pericolosa pericolosa questa ok quindi doppio taglio big horner rancher costa 5 2 5 cautela tappa aggiungi una montare di mana verdi pari alla forza maggiore tra le creature dei controlli sacrifica big horner rancher guadagni vite pari alla costituzione maggiore tra le altre creature dei controlli ok breakdown costa 3 instantaneo distruggi un artefatto un incantissimo bersaglio crea un jung token ci sta gunner con sprit con script costa 2 2 2 travolgere prende più 1 più 1 per ogni peggio attaccati adesso quando muore se era incantato crea un junk token quando muore se era equipaggiato crea un junk token ok se era equipaggiato crea due super mutant scavenger costa 5 5 5 5 travolgere quando entra in campo di battaglia o muore fa tornare fino a un aura equipaggiamento bersaglio dal tuo cimitero in mano well rested costa 2 incantesimo aura incanta creatura creatura più inventata a ogni qual volta questa creatura diventa stappata metti due signori più più uno su di essa e fai due vite e pesca una carta questa abita triggera solo una volta per turno chiaro creature bersaglio che controlli prendono rapidità fino a fine turno e non possono bloccate questo turno in sezione delle creature con rapidità dove x il numero di bubble head che controlli quando attivi questa abilità e qui ne abbiamo una poi c'è la bubble head della percezione costa 3 tappa giugimai così colore tappa 3 tappa guarda le prime x carte del tuo grimorio dove x il numero di bubble head che controlli puoi lanciare una magia con un valore di mana 3 o meno senza pagare il suo costo di mana il resto in ordine casuale ci sta ci sta comunque vanno sempre con la x in base a quanti controlli esatto silver shroud custom costa 2 equipaggiamento con flash quando entra in campo di battaglia attaccano alla creatura dei controlli quella creatura prende velo fino a fine turno il equipaggiata non può essere bloccata però si mica male all deck glitters costa 2 cantacratura cantacratura prende 1-1 per ogni artefatto equipaggiamento che controlli ok patto exile adesso controlla una creatura e cerca la base e metti in campo tappata valorous stance costa 2 istantaneo scegli uno una creatura bersaglio prende distruttive fino a fine turno distruggi una creatura con valore con forza 4 costituzione 4 superiore stinky finger costa 1 incantesimo aura incantacratura incantata minacciare e ogni volta questa creatura crea un tesoro quando una creatura incantata muore pesca una carta va bene ad una crescita abbondante crescita abbondante incantata terra pesca una carta fa da filtro aggiungi umano di qualsiasi colore fertile ground tappa costa 2 incantaterra unica volta terra incantata e tappata per aggiungere mano sui contenuti di un giungio umano adizionale di qualsiasi colore buono rancor rancor incantacratura incantata prende più di più zero a travolgere quando rancor viene messo in un cimitero da campo di battaglia fa tornare mano al suo proprietario fantastico squirrel nest costa 3 incantesimo aura incantaterra terra incantata a tappa crea uno scoiattolo 1-1 verde ok creiamo scoiattoli wild growth costa un verde incantaterra unica volta la terra incantata è tappata per aggiungere mano il suo controllo raggiunge una verde addizionale va bene allora behemoth sledge bimoth sledge costa 3 locator che ho baggiato prende più 2 e a travolgere regalo vitale che ho baggiato 3 ok per regalo vitale mi piace un po' poi abbiamo l'arcansignet brass necklace costa 4 artefagico baggiamento ogni volta lanci no quando lanci questa magia copiala la creatura equipaggiata ha doppio attacco fino a che ha due o più equipaggiamenti attaccati ad essa equipaggiare a 1 buono 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 explorer scope costa 1 tratta di equipaggiamento ogni qual volta la creatura equipaggiata attacca guarda la prima carta del tuo primorio se hai una terra puoi metterla sul campo di batalla tappata equipaggiare a 1 buono buono è una bella restante questa fire shaker costa 3 tratta di equipaggiamento la creatura equipaggiata a doppio attacco equipaggiare a 2 solring swiftfootboots costa 2 antimalocchi e rapidità equipaggiare a 1 ashbarren quindi circuit terra base burried ruin sacrifica per tornare un artefatto dal cimitero in mano command tower evolving whites jangle shrine quindi trioma tappato senza spezzabile patto fancestry roadside reliquary aggiungi in colore oppure tappo 2 tappa sacrificalo pesca una carta se contrario un artefatto pesca una carta se contrario un incantesimo pescare 2 non è male passaggiore di farabutti monotoforte tempio della defasulla terramorphic expanse e montagne foreste mazzo che mi sembra un filino dietro c'erano anche queste c'erano anche queste ci siamo sbagliati brotherhood outcast costa 3 quando entra in campo di battaglia scegli uno far tornare una aura occupaggiamento con valore mana di 3 o meno dal tuo cimitero su campo di battaglia o metti un segno scudo su una creatura bersaglio oh male segno scudo commander sofia da guerre costa 4 1-3 lampo crash landing quando entra in campo di battaglia distruggi fino a un permanente leggendario bersaglio il controllore di quel permanente crea un jung token ok ci sta accurate mutation costa 3 incanta creatura la creatura incantata prende più di più di 2 e è spronata ogni volta la creatura incantata attacca il giocatore in difesa prende 2 rat counter non male non male ok va bene questo è molto puntato sugli artefatti delle auree speriamo che beh mazzo mazzo non male direi mi sembra un po' meno dell'altro quello che abbiamo visto prima mi sembrava un filino meglio quello delle energie però anche qua ci sono tante auree tante auree peraltro tante auree abbastanza forti e lavora tanto anche da riprendersene dal cimitero quindi potrebbe essere meglio dei normali mazzi aura esatto vedremo vedremo come lavora con dog meat direi che dall'antimit è tutto al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti